Benvenuti amici, amici e amiche a una nuova puntata del podcast del disagio e dunque questa era, la dovevamo fare da tanto tempo perché se non altro proprio nella mia esperienza questa tematica è una di quelle che da sempre ha pesato, impattato, aggravato, forse addirittura è stata la prima cosa per cui io ho avuto a che fare col mondo della psicologia, delle cure di un certo tipo, quindi questa puntata era da tempo che volevo farla e con me c'è un ospite più che illustre che vi presento subito ovvero Giulia Biondi, ciao cara. Ciao vi, grazie a tutti e grazie per avermi ospitata. Dicevo appunto prima fuori onda Giulia che appena vi ho detto oh vorrei fare la puntata sul disagio alimentare, chi potrei invitare secondo voi? c'è stato un tripudio Giulia, ti ama proprio, no lei per forza è bravissima, la seguo sempre, ma cambia un'unica. Mi faccio capire in maniera semplice e delle volte anche indelicata perché delle volte mi parte pure qualche parolaccia per lo sfogo, fatemi sfogare ogni tanto. Qua la parolaccia libera frie, noi siamo per quando c'è vò c'è vò e quindi quando c'è vò è capito, poi del resto c'è vò. E no perché delle volte dicono che non sono professionale, dico vabbè ogni tanto si parla pure francese, quindi siamo adulti e quando uno dice una cagata è una cagata, come la cagata è un passato da linguista e ho sempre detto che quando uno o una inizia a dire le parolacce nell'altra lingua vuol dire che è arrivata a un buon livello perché la parolaccia è proprio quello che rappresenta tantissimo il carattere della lingua stessa, cioè capito uno è bravo di tutti a parlare tutto forbito, tutto normale, tutto regolare. E' certo, padroneggi la lingua quando ti lasci andare anche nei modi di dire. Esattamente, guarda è verissimo, io quando abitavo a Londra mi sono resa conto di aver finalmente un po' cominciato a ingranare quando i fac le dicevo nel punto giusto della frase ed è una delle cartine torna sole di quanto bene una persona parla un'altra lingua oppure no, quindi guarda qua sei proprio, cioè nel senso sono libere, vai tranquillissima. Dunque, adesso poi dopo la sigla introduciamo meglio Giulia, spieghiamo un pochino appunto del suo percorso per chi non la conoscesse, se proprio qualcuno non la conoscesse però iniziamo con la domanda di rito ovvero su che livello della scala Spears di disagio ti trovi in questo tuo periodo della tua vita, partendo dal presupposto che in basso in basso 1-2 abbiamo una Britney promessa del Mickey Mouse Club, 8-7-8 anni, tutta carina che canta, che ha tutta la sua carriera davanti e al 12 abbiamo una Britney 2007 appena un minuto prima di finire in un TSO per via della scena dei paparazzi con la testa rasata e il 666, ecco per dire, poi in mezzo ci metti quello che vuoi tu però hai capito più o meno il range. Il range, dai mettiamoci sul 5, mi vedo a metà, sì, perché mi sento ancora una ragazzina anche se adesso ho 36 anni perché ho capito a 36 anni che è ora di fare un figlio e lo stiamo metabolizzando con mio marito così dopo i 15 anni che stiamo insieme perché a livello lavorativo continuo a mantenere sempre quella freschezza e curiosità insomma che è parte integrante, insomma anche il motore della scienza e non mi sento ancora arrivata, non mi ci voglio sentire, quindi ho momenti anche io di perdimento, di perdizione e di esaurimento che fanno parte dell'essere umano e non voglio essere una persona normale e quindi diciamo che questa galleggiare tra Britney e Britney... Sì 5 va bene perché tu praticamente sei, secondo me ti metterei tra dopo il successo di Hit Me Baby One More Time e la sua emancipazione prima di, durante prima di Hoopsa e di Dire Again, cioè quando lei dice avete capito che io so brava, adesso non sono più solo... Eh, bravissima, bravissima, tipo quando era quella fase lì, sì, diciamo la mia comfort zone in questo momento. Benissimo, guarda mi fa piacere trovarti in questa posizione della Scala Spears, non è sempre così. Io per esempio questa settimana che poi oggi che registriamo è il Blue Monday, tu non sai che... Adesso puoi immaginare che qui in pianura padana, cioè c'è un tempo del merda che veramente te lo raccomando, quindi ci metti quella una cosa e quell'altra, va bene non voglio dire otto, però dico sette perché ho tutta una serie di sbatti da fare oggi che ho infilato uno via l'altro e quindi ci sto dentro ma se mi... ecco sono in quel momento in cui se mi arriva quella cosa in più che non avevo previsto sbrocco, tipo, quindi siamo un pochino così a livello. Sei il borderline in questo momento. Brava, esattamente, esattamente. E dunque, però questo non spaventarti perché non imparco, cioè fare il podcast, registrare il podcast è uno dei miei happy places, quindi vai super tranquilla che non sbroccherò qua con te. Te la prendi con me, insomma, grazie. Bene, direi che possiamo passare alla sigla. Gli Ascoltabili presenta Il podcast del disagio Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle Questo è un podcast che tratta di tutti i tipi di disavventure sentimentali dal ghosting ai più tragici appuntamenti passando dal cyber dating alle bugie che ci ha raccontato la Disney sul Principe Azzurro un'analisi quasi seria, quasi filosofica di come, in fin dei conti, nella sfiga siamo tutti uguali. Bene, come vi dicevo, vabbè, vi abbiamo anticipato l'argomento subito in apertura ma del resto, appunto con Giulia come ospite, ve lo potevate immaginare Trattati di disagio alimentare che, per carità, è un ombrello mega gigantesco di roba nel senso che, secondo me, umanamente, culturalmente, a livello proprio di società sottovalutiamo non poco, cioè non tanto, tantissimo quanto l'alimentazione faccia parte della nostra vita sia a un livello, appunto, di nutrizione, di benessere del nostro corpo ma soprattutto anche a un livello psicologico perché si tende, no, un pochino a sminuire la cosa tipo, ah sì, mangia bene, oppure mangia questo, oppure mangia quell'altro ma non si sta sempre molto attenti a quante tantissime sfumature ci siano nell'organizzazione alimentare della giornata di una persona, di una famiglia poi io, per esempio, sono fortunatissima, nel senso che il massimo della gestione alimentare è mia, del mio compagno e dei miei cani, fine però, capito, c'è una famiglia, i bambini, c'è tutta una roba pazzesca e viene spesso sottovalutato quando si sottovaluta una tematica succedono quelle cose che oggi insieme lei da sempre sui suoi canali però oggi insieme cercheremo di riassumere il disagio alimentare sfatare, raccontare, esorcizzare ondevitare di veicolare delle informazioni sbagliate che vengono portate avanti da tanto, tanto tempo perché lo sappiamo, penso che tu sia d'accordo con me che nel mondo dell'alimentazione apriti cielo, no? ok, tra appunto nutrizionisti fitness coach, farlocchi che però ti fanno anche la dieta cielo, aperta, chiuso parentesi cielo più di uno l'amica che ti smazza il beverone perché è finita nel multilevel marketing e quindi deve venderti il beverone e ti dice ma io ho perso 17 kg in una settimana con questo amica mia quindi capito? È un mare magno cercheremo, grazie a Giulia, di fare un pochino di punti fermi, ovvio che no è un argomento vastissimo eh no, è un mare, è un mare come togliere un bicchiere d'acqua praticamente oggi lo cercheremo di toglierne di togliere più bicchieri d'acqua da questo malasma possibile, esatto inquinato, cambiamento climatico veramente anche c'è un cambiamento climatico anche sulla comunicazione a livello nutrizionale esatto e un bicchiere d'acqua che mi confermi anche quello non credo abbia fatto mai dimagrire nessuno no, oggi ho fatto un reel anzi un video su tiktok proprio perché sulla Repubblica dato che questi giornali poi continuano a farci il favore di continuare a dire stupidaggini certo, certo altrimenti se no non potremmo più lavorare a livello comunicativo e dicendo appunto che la dieta dell'acqua c'era proprio la dieta dell'acqua bere otto bicchieri d'acqua al giorno abbinato ad una dieta epocolorica e ad un allenamento ad un allenamento costante io e grazie al grazie signora ma sulla Repubblica cioè sono giornali seri no, no, no cioè non è bigodino.it perché sul bigodino.it ti dico che io consulto quotidianamente per l'oroscopo però sul bigodino.it mi aspetto la dieta degli otto bicchieri d'acqua e dico vabbè però sulla Repubblica è pericoloso ma anche sul messaggero ma io ne puoi tutte quelle che escono poi a me sono i follower che Giulia guarda che è successo Giulia guarda che cosa hanno scritto perché comunque ecco il messaggero e l'avvocato che fa dimagrire il grasso addominale nelle donne e prendono questi studi il vino che ti fa dimagrire se bevi il bicchiere di vino la sera a cena ti fa dimagrire ma qualsiasi giornale qualsiasi però bisogna andare a capire poi perché escano queste cose e quindi poi quando vai a valutare che poi è una cosa che si perdura nel tempo parlando con vari giornalisti poi mi hanno spiegato che prima c'era un rispetto un po' più sottile riguardo quello che sono le evidenze scientifiche ma loro prendono lo studio americano che adesso quando c'è lo studio americano ragazzi siamo sempre qui va là perché questi studi americani le fanno usci gli unicorni di casa esatto dall'università del Massachusetts e hanno detto che l'uva fa non lo so non farei la cacca fa crescere gli stinchi del di notte e quindi tu ti alzerai due centimetri più alto c'è una gerarchia di questi studi e questo che poi la figuraccia che vanno a fare ad un certo punto quando le persone sono sempre più informate e spiegano alle persone che vengono prese in giro di non credere a certe stupidaggini che purtroppo invece vengono anche ripetute da tanti altri professionisti che non sanno cosa vuol dire metodo scientifico ed evidenza scientifica quindi ci sta questa bella piramide di studi quindi ci sta il metodo scientifico che cosa dice che deve essere osservabile riproducibile e monitorabile se quella cosa allora la fai sui funghi sui topi sull'uomo su ok l'uomo quindi ci sono poi le gerarchie le scale di evidenza scientifica più hai l'uomo ok vale più del fungo vale più del topo l'evidenza sull'uomo diciamo così no? di media io non sono assolutamente una scienziata però mi sembra naso è un po' semplice anche spiegarlo così uno ci arriva anche in modo semplice a capire che c'è questa gerarchia per un motivo motivo che può essere anche il fatto che lo studio l'è fatto su 10 uomini brasiliani o su 600.000 uomini per due anni quindi questi studi hanno un grado di attendibilità a seconda proprio del valore dell'evidenza che porta quindi hai poi le review le meta-analisi e le evidenze se questa cosa del vino se queste i miracoli la gente cerca i miracoli si attacca a tutto e la gente che fa comunicazione in modo sbagliato e non divulgativo gioca sulla sensibilità e la lacuna diciamo ignoranza purtroppo della persona 100% è quello guarda che io mi ostino tra le altre cose un'altra che io cerco sempre di portare avanti appunto è la differenza tra un percorso di psicoterapia e uno da un love coach che è poi la differenza tra quello che fai tu e quell'altro che invece smazza che ne so capito cioè che purtroppo dato che in un mondo incredibile di informazioni a cui abbiamo accesso dobbiamo saper fare una cernita per poter fare una cernita dato che veniamo bombardati l'unica cosa che possiamo fare è sviluppare un pensiero critico ora di che cosa ci possiamo fidare allora è vero che poi magari mia zia concetta è andata a fare le costellazioni familiari le hanno svoltato la vita perché aveva il trauma di suo zio ignazio però non ha nessuna base scientifica allora io non sto a discutere che ne so le convinzioni personali della gente per esempio se appunto sempre zia concetta se vuole maniare aiutami non so tre grappoli che ne so il prezzemolo la mattina brava bravissima ci vedrà meglio bravissima lo vuole fare perfettissimamente però no a credere a chi vi dice guardate che mangiando prezzemolo la mattina io che ne so ci vedo meglio capito ecco quella è la differenza che non vuol dire censurare la gente la gente poi può dire quello che ne ha voglia ma sviluppare noi un pensiero critico che ci permetta di fare una cernita tra le informazioni oggettive scientifiche giuste le fake news brava bravissima esattamente io mi metto anche nei loro panni perché poi queste cose ci fanno adesso anche dei video dove le persone staccano per esempio fanno finta che stanno mangiando le uova allora stanno sentendo intanto un video e dicono ma le uova aumentano il colesterolo e mentre sta mangiando le uova dice oddio no le uova no attacca con l'altro video mentre magari sta mangiando non so latte e biscotti no latte no oddio no bischiere no quindi poverini adesso mi rendo conto che anche per chi anzi soprattutto chi ha un problema come un disturbo alimentare quindi un rapporto già complicato quotidiano con il cibo con la sua immagine corporea sentirsi poi così bombardato in modo gratuito perché poi adesso la cosa è faccio questo video l'obiettivo non deve essere il like solamente da parte della persona che sta surfacendo comunicazione deve capire anche come comunicarlo in modo corretto perché quello diventa veramente una problematica che può aprirsi a ventaglio su vari fronti cioè è una questione sì allora purtroppo non possiamo augurarci che tutti abbiano una coscienza etica lavorativa morale e per questo che dobbiamo appunto tutelarci e essere un pochino più scettici noi magari pur ci sta è che appunto uno voglia che ne so cambiare alimentazione provare qualcosa di nuovo eccetera però la cosa bella che ci dicevamo prima del tuo di come porti avanti le informazioni che tu dai è l'arrivo all'autonomia che è capito l'ideale per tutte le cose cioè io devo potermi fidare di me stesso questo vale per la salute mentale vale per l'alimentazione vale per il lavoro vale per le relazioni cioè io devo poter essere tranquillo che le mie scelte sono più o meno ponderate e non sono capito un fuscello al vento che non so che cazzo sto facendo della mia esistenza esatto e secondo te Vì secondo te perché se io mangio tutti i giorni della mia vita da quando sono nato non conosco ciò che mangio cioè perché non ho la conoscenza di quello che mangio e nessuno mi mette nelle condizioni di fare una scelta consapevole dato sufficiente e anche se mi ritrovo a 50 anni con tre figli vado da un'altra persona non perché magari ok ho una patologia allora in quel caso della mia dietetica certo punto ma perché io devo avere uno schema da dover seguire quello schema io al di fuori di quelle sette pagine non mi so muovere non so scegliere non so variare non so cosa sto facendo e soprattutto cioè poi vado a riprendere magari il peso che ho perso e soprattutto poi le diete falliscono per il 95% dei casi allora c'è qualcosa che non va allora se vogliamo entrare proprio nel merito del gomblotto io penso io penso un sacco di cose su questo argomento perché uno la l'industria delle diete essendo noi che viviamo in un sistema capitalistico ha semplicemente perorato questa causa come dici tu inventato a seconda del paese cultura target demografico questo enorme mercato che va tra l'altro poi alle donne specialmente dire alle donne sei brutta sei grassa hai la cellulite non vai bene così e quindi devi bere questo mangiare questo fare quest'altra cosa eccetera e questa è una parte del secondo me del motivo per cui siamo in questa confusione di informazioni e non autonomia di informazioni e non capacità di avere e non poi c'è l'altro aspetto che fondamentalmente l'educazione alimentare non te la insegnano nessuno da nessuna parte a scuola non è manco pervenuta adesso poi io ce ne ho 39 tu 36 ma ai miei tempi proprio toh magnate questo no no fine cioè non era manco pervenuto esatto quindi quando io ho fatto il mio primo appunto ambulatorio per il binge eating disorder e la la dottoressa che avevamo che si occupava della parte alimentare io sono andata per due tre settimane aspettandomi che da un momento all'altro mi desse una dieta capito cioè io continuavo ad andare lì invece no e dicevo ma perché questi non mi danno datemela per favore anzi ero un po' tipo beh sto posto però tutte queste recensioni positive eppure non mi danno la dieta come è sta storia e ho anche dato che poi io sono abbastanza espressiva quindi ho anche detto mi scusi ma quindi cioè non me la date questa dieta che famo quando lei mi ha detto no qua ti diamo un'educazione alimentare il mio cervello ha fatto tipo esplosione in che senso nel senso che tu devi sapere che il tuo corpo ha bisogno di questo di quest'altro diciamo più o meno nell'arco di una giornata nel fabbisogno di una persona X perché poi ovviamente cambia tantissimo a seconda delle persone e ho detto ma quindi non me lo dite voi quello che devo mangiare no e lo stesso per un mese tornavo a casa da mia mamma e mi lamentavo no ma guarda mamma che questi qua non mi hanno dato la dieta cioè ma ti rendi conto e adesso io come faccio a dimagrire capito quindi in varia di me stessa esatto e io ho imparato più su appunto tutto la mia autonomia eccetera in quell'anno e mezzo facevo questi ambulatori ogni lunedì e io cioè non so come dire mi hanno ecco il potere in più che finalmente di fare qualcosa che comunque devi fare tutti i giorni che non ti crea quell'ansia di sbaglio di quello mi ingrazzo di quello mi fa dimagrire di quello fa ingrassare e questo inizialmente ti spaventa tantissimo perché dici madonna mia dove vogliono andare a parare perché ti senti comunque poi responsabile tu di te stessa e di non avere il controllo delle cose perché se tu hai quello schema sai che controlli e che sei controllata anche il fatto che devi andarti a pesare tutti i mesi certo cioè sta scena che devi andare dal nutrizionista che ti dice no sei stata brava no sei stato cattivo no ti devi dimagrire no che ti devi ingrassare quindi insomma un po' così anche a livello psicologico le persone poi iniziano ad avere un po' una repulsione anche nei confronti della bilancia perché comunque non è neanche quello il mezzo di sentirsi giudicato comunque è un numero fino a se stesso che non mi dice neanche se sono dimagrito o sono ingrassato può capitare anche questo però ecco la tua insomma cavolo che sta succedendo questi stanno fuori di testa però è proprio quello che è un percorso che hai dovuto fare che è durato comunque un anno perché anche se volessi imparare l'inglese non è imparare un'altra lingua no 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 è durato un anno e mezzo quello lì ma poi io con lei ho voluto un pochino portare avanti dopo perché comunque ho capito che la chiave di svolta stava appunto come dici tu nell'autonomia cioè io devo poter essere in grado di dire a me stessa Valentina stasera ti vuoi mangiare che era la cosa meravigliosa di lei cioè lei per un po' mi ha accompagnato e mi dava inizialmente lei mi diceva guarda che non c'è nessun problema finché non sono stata io a dirmi guarda che non c'è nessun problema ma se stasera te mangi questo o quell'altro eccetera capito poteva essere qualsiasi cosa anzi in quel caso ti fa non perdere il controllo perché nel momento in cui tu lo fai con trasporto attivo positivo e volontario ti vai a valorizzare anche il momento e brava bravissima a 360 gradi quando tu invece la vivi con ansia come sbaglio questa parola sgarro che io ve lo giuro ti l'ha inserita a livello nutrizionale cioè io andrei veramente a prenderlo sotto casa in questo momento e dirgli tutto quello che a me tutti i giorni pensa che in inglese addirittura non è neanche sgarro è tradimento il giorno che tu tra virgolette durante la dieta mangi quello che vuoi questa cosa orribile cioè sei sei giorni a gallette di riso e poi un giorno te mangi capito è il cheat day che sarebbe il giorno del tradimento cioè pensa psicologicamente che pesantezza infinita che può avere questa cosa su una persona comunque scusa se ti ho interrotto era perché mi faceva ridere quello che dicevi era proprio è vissuto in questo modo è vissuto come un tradimento è come se tu tradissi te stessa perché sono stata così brava ma dai mi ha fatto tutto così bene durante tutta la settimana e adesso vado a rovinare tutto quindi diventa l'hanno inculcato questa cosa a livello proprio culturale a livello della dieta ma anche stessi professionisti utilizzano il giorno dello sgarro il giorno libero ma anche il Natale fa parte dello stile di vita anche la Pasqua fa parte dello stile di vita quindi si mangia qualcosa in più perché sono tanti momenti che abbiamo trascorso insieme alla convidialità però perché magari non mangio le lasagne di mia nonna che magari ci vogliono una settimana da fare per farle così come mia madre non cucina mai durante l'anno fa una cosa a Natale fa le tagliatelle a ragù quella volta avrà quel sapore in più ma non vuol dire che mi debba sfondare una teglia di lasagne o una pirofila di tagliatelle a ragù e quello invece perché quando è che accade quando io poi faccio du maroni così alla gente che gli dico non dovete fare i digiuni prima del Natale così le forme di compensazione perché quelle ti fanno perdere il controllo dici vabbè arrivo con una fame da lupo che mi sono maniata pure davvero mi nonna al giorno di Natale e poi la nonna che tra l'altro ci ha messo una settimana a cucinare la lasagna poverina quindi tutta la magni pure la nonna cornuta e ammazziata mi nonna e che succede che poi tu però quando stai lì che dici vabbè sono arrivata con una fame tanto adesso ho fatto tutti i digiuni del mondo mi sono purgata adesso mi posso fare questa bella buffata perché poi diventa veramente abbuffata fernine che avviene a livello clinico utilizzato e magari quando uno parla delle abbuffate natalizie non è una buffata natalizia ha mangiato qualcosa in più si può trasformare in una buffata vera e propria quando tu hai un trasporto psicologico dovuto ad una restrizione e perdi il controllo ancora più più perché dici vabbè tanto poi dopo recupero con il detox quindi tutte queste anche forme di compensazione che propongono e ti vendono la clorofilla per farti drenare e le ali di pipistrello e la bava di coniglio si inventano di tutto di tutto e solo se hai una formazione guarda io guarda la bava di coniglio mi mancava la bava di coniglio no adesso noi no scusami scusami noi scherziamo sarebbe tipo la lola esatto però davvero si leggono delle robe da la proteina trovata nella lumaca che attraversa il deserto del Sahara estratta può interagire con il tuo senso di sazietà o robe cioè si guarda c'erano delle adesso sono in vendita delle goccine amare che praticamente qual è la verità scientifica chi è più predisposta ad un sapore amaro ha meno tendenza a prediligere il dolce cioè a chi piacciono che ne so le verdure amare ok la cicoria ma proprio per indole sua personale si si certo tenda a non prendere peso perché ha questa predisposizione al gusto cosa succede allora se l'amaro non fa insomma non fa desiderare il dolce faccio le gocce amare per chi vuole il dolce così sente l'amaro e non gli fa il dolce cioè fanno delle cose che quell'effetto placebo perché se tu vai a vedere dietro veramente ci sarà il succo di cicoria si perché te lo puoi realizzare tu a casa senza andare a spendere 180 euro 180 euro una boccetta così una cosa terribile e vabbè lasciamo perdere tutto questo dateli amici dateli a noi piuttosto dateli a Giulia che vi fa un percorso serio e ponderato o se volete darli a me così per simpatia non vi posso fare il percorso o li diamo in beneficenza brava li diamo in beneficenza piuttosto comunque li investiamo in maniera diversa così come ecco la conoscenza ti può mettere ti può proteggere bravissimo da non credere a tutte queste stupidaggini esattamente stupidaggini anche che non sono solamente a livello economico così per pozioni e tutto quello si bloccherebbe a livello di industria di marketing e tutto quello che abbiamo già precedentemente annunciato ma anche per esempio tutte queste congetture a livello mentale quando senti magari proposte per avere non so un'alimentazione migliore facendo magari adesso ci sta tutta questa cosa dell'indice glicemico la gente mangia se compra il glucometro per misurasse la glicemia anche se non c'è tra i professionisti che ti spacciano le diete eccetera spazia davvero dalla mutanda che ti fa sudare quindi dimagrisci al corso di fitness la app che facendo questo tipo di esercizio come quell'altra che ha perso 20 chili ed è purtroppo è a tantissimi livelli è sia che ne so a quei livelli magari irraggiungibili promosso da personaggi anche di rilievo che non si rendono conto del loro privilegio quando dicono che magari loro si nutrono in un certo modo e te credo c'hai lo chef in casa c'hai capito chi ti fa tutta la non so la settimana pensi solo a quello esattamente esattamente fino a scendere a noi poracci che invece proviamo così ad arrabbattarci e senza mai considerare anche un aspetto molto sociale che il mangiare bene come viene inteso mangiare sano che ci sono tutte queste influencer che si fa 14 mila smoothie al giorno e 18 mila capito centrifuga al giorno faccio una valentina per il sociale comprare solo ed esclusivamente verdura frutta di un certo tipo e in una certa quantità ha anche un certo costo quindi è molto poco sociale per quello perché portare avanti un regime alimentare di un certo tipo solo con le chichette di fave di quinoa del del contadino bio capito è brava se uno va a fare la spesa del supermercato normale perché ha quei soldi che ha deve poter capito prendere le robe del supermercato non può sempre andare in negozio come si chiamano quelli super fancy che hanno tutta la nutri farm quelle che sanno tutta una roba senza non sto facendo dissing alla catena però bello grazie buono fantastico non tutti se lo possono permettere quindi anche da un punto di vista sempre tornando lì economico psicologico e sociale quello che fai tu è super iper mega importante perché lì davvero ti giuro adesso non sto sviolinando però l'altro giorno dovevo far colazione ho finito ho finito con le fette che uso io di pane con la marmellata per far colazione avevo questi cereali tristissimi proprio non so perché ce li avevo forse mia madre me li aveva regalati forse quelli sai come di cartone tipo stavano lì la segatura stanno lì perché tanto non li mangio e poi hai fatto il reel quello appunto con lo yogurt greco i cerealini quelli di cioccolato di cioccolato e quindi c'erano quelli lì tristi accartonati che non sanno di niente poi c'erano i rice krispies del mio moroso di fianco e io mi sono avevo lo yogurt greco la cannella te l'ho detto l'adoro ho detto ma sai che c'è ma era stata un'idea in più a cui io non avrei pensato ma non perché non me lo volevo concedere era per proprio il mio cervello era capito andato in quella direzione lì un tuo contenuto e quello non è capito mi ha tra virgolette detto ma che bella idea proveranno esatto no quindi questo è proprio pure il voler far riavvicinare le persone al cibo perché quando si fa questo terrorismo alimentare gli zuccheri no e se fai il pasto devi mettere le zucchine poi il pollo o gli amberetti poi il riso poi l'olio quindi prima le verdure poi ma nello stomaco si mischia tutto prima che avviene la digestione prima che avviene l'assimilazione cioè non è che il pollo gli dice no aspetta prima che resta la zucchina no aspetta qua arrivano gli gnocchi cioè sembra che io non so cosa si immaginano le persone che c'è una specie di vigile c'è il vigile della digestione polizia del intestino sì la polizia intestinale la polizia non è la polizia la polizia che dà le precedenze no tu aspetta quello lui è verde ma prima lui c'è la precedenza tu sei una proteina no tu aspetti proteina stop arriva il pollo dopo mezz'ora ok tu entra no lo gnocco aspetta un quarto d'ora non è così tutto viene masticato diventa bollo diventa chimo diventa chilo agenti tutto diventa palline piccolissime ma tutto avviene anche in due tre ore dentro lo stomaco non è tu stai due tre ore e dici ok me mangio le zucchine aspetto un'ora mangio il pollo aspetto due ore non è così tu mangi comunque all'interno di un arco temporale certo e però ecco poi te lo ritrovi come primo best seller di nutrizione dietetica nelle classifiche una roba del genere di una biochimica francese e ti trovi medici sui social che dicono cose del genere una persona che si trova già ad avere insomma così un discorso complicato o anche insomma un atteggiamento nei confronti del cibo che è problematico invece di avvicinarla e questo ci insegnano le linee guida della sana alimentazione che sono il documento ufficiale per tutti i consumatori italiani sul sito governativo quindi voi quando avete dubbi andate sul sito governativo lì ci sono tutte le evidenze quindi quella bella piramide iniziale che vi ho spiegato metanalisi funghi uomini utopia all'inizio alla fine di questo ci sono le evidenze le evidenze vengono accolte da tutti gli studiosi che mettono anche dato che stavamo a parlare prima della grandine che è scoppiato tutto quanto dentro casa tua prima di iniziare ad entrare la diretta il cambiamento climatico esatto stava a scoppiare il cane il gatto in disastro il cambiamento climatico è dovuto anche da quello che noi mangiamo e le linee guida tengono in considerazione anche tutto quello che sono anche le sostenibilità ambientali delle materie prime dei cambiamenti climatici quindi la carne non te la puoi mangiare a tre etti tutti i giorni per questo motivo quindi c'è questo che la FAO infatti ha accolto le linee guida della sana alimentazione tu vai là e che cosa trovi trovi che tutte le settimane ci sono 30-50 grammi di prodotti da forno quindi ti vuoi mangiare 40 grammi di pandoro che ti è avanzato dal Natale prima che finisca la gente ma che succede no ma non è avanzato il pandoro ma che faccio preghiamoci eliminiamolo così poi inizio la dieta quindi se lo finiscono se lo incontro se dice no guarda che è come la crostata è come il blue cake è come quindi riavvicinare le persone normalizzando il cibo ci stanno quei rice krispies ma non è che tutti i giorni ma oppure non è che tutta la giornata mangio zuccheri aggiunti ci stanno questi benedetti zuccheri aggiunti anche che sono accolti da tutte le evidenze dell'AIRC associazione ricerca cancro e eliminare zuccheri e grassi non porta alcun beneficio a livello nutrizionale quindi diciamo che musica per le mie orecchie no guarda hai scelto capisco davvero capisco perché adesso io mi trovo in tutto quello che dici non ovviamente ho le conoscenze che hai tu ma le accolgo a braccia aperte perché è un percorso che io faccio da anni capisco anche la persona che appunto come dicevamo prima si trova in difficoltà si trova in questo bombardamento mediatico di informazioni poi c'ha il suo disagio personale della sua vita di tutti i giorni perché davvero appunto che ne so vedersi grassa vedersi o che ne so sottopeso mettiamoci pure anche quello per carità le crea un malessere un disagio quotidiano e quindi vorrebbe una soluzione facile purtroppo è vero che e lo dico proprio per esperienza a non esiste la soluzione facile io nella mia vita non te lo so manco dire quanti diete avrò fatto prima di capire che non era nella restrizione la chiave perché le ho persi 10 le ho persi 12 poi ne ho ripresi sempre 20 ne ho ripresi 25 c'è sempre il rimbalzo come le molle cioè tu ristringi restringi e poi raddoppi almeno ripeto nella mia esperienza no no è quello è quello che accade e come dici tu ci sono proprio delle prove scientifiche che le diete tu hai detto che ero 95% mi risultava anche a me non funziona 95% cioè non c'è niente da fare e prima entriamo cioè vissuta come vissuta solamente come schema da rispettare vado perché devo perdere peso se invece fosse vuol dire che non è stato insegnato non è stato impartito nulla riguardo quello che sia un'educazione alimentare quindi la prima cosa che una persona quando vada nutrizionista si ma quanto perderei secondo lei se seguo questa dieta quindi loro viaggiano cioè ma da quando anche misuri il tuo valore in grammi e in centimetri cioè da quando tu sei giusto o sbagliato hai un problema di salute in sovrappeso ok il peso sarà una conseguenza di correttabitudine e stile di vita ma non è che se tu fai quella eliminazione ti porta come a Natale da prima dopo durante da eccessi a difetti a viverla veramente poi sempre peggio a livello psicologico e poi Valentina cosa che a me veramente questo periodo il periodo di Natale poi figurati stai insieme a chiunque vabbè lasciamo per i boomer i boomer in famiglia a Natale sono uno cioè io l'ho lavorata molto con la mia community questa cosa perché per esperienza so che è proprio tipo il boss alla fine del livello del videogioco cioè attraversare queste cene questi pranzi con la zia che ha però ti vedo ingrassata il cugino che è lei però lei è incinta quindi ci sei ingrassata invece tu perché no ma magna te però sto maritozzo e che non tu magni eccetera 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 e scusa faccio la centromana solo perché mi piace tantissimo e so di non essere capace non è assolutamente per prendere in dire ma a me pure piace a me piace mi piace da morire però adoro anche quello napoletano e il toscano a me queste due io non lo so fare ma le amo le amo le ascolto tantissimo idem con patate bravo non è per ironizzare è perché mi viene in mente proprio la sora Lella che dice che non tu magni questo che come dicevi tu prima la nonna che è in punto di morte ci ha messo una settimana a cucinare quindi il Natale è come dici tu è proprio se uno riesce a uscirne senza un episodio depressivo un esaurimento nervoso voglia di buttarsi fuori dalla finestra può ritenersi secondo me già soddisfatto e felice cioè soddisfatto delle sue prestazioni mentali superato sì 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 e a te avranno ti avranno massacrato con le cose di Natale diciamo i racconti perché dentro casa oramai già lo metti sull'attenti cioè non si commenta il corpo di nessuno il piatto di nessuno ognuno facesse come vuole se no Natale ognuno a casa sulla prossima volta bravissima io già a casa già se no vuol dire non ti ho chiesto non ti ho chiesto il tuo segno visto questo tuo diciamo dimmi che segno secondo te allora guarda con questa attitudine molto diplomatica in famiglia e in generale bella combattiva potrei pensare una rieta anche tu forse una vergine o sei una persona molto come si dice sei un punto di riferimento tu per i tuoi cari cioè fai casa fai famiglia fai attaccamento delle cose anche toro forse cioè non ce sto mai non ce sto mai sono toro sei toro non ce sto mai ok però però so quella che dentro casa organizza cucina cioè i giorni di Natale miei cucinano comunque o mia suocera però poi faccio stare tutti seduti a tavola e io sistemo cucino preparo gli coccolo sono quella che appunto è proprio anche più tocco tutti abbraccio tutti cioè sono un po' fastidioso ok ok no perfetto il toro e parliamo sempre per Mastica nel senso l'astrologia la prendiamo come tutte le altre cose dato che non ha nessuna base scientifica in maniera folcloristica non voglio spaventarti il toro è effettivamente o mi dici che sono bella o mi dai da manià o mi fai dormì questa è più o meno la filosofia sono toro ok perfetto e poi vedo che ho affinità con tutte ecco io anche comunque non essendo comunque una scienza ma mi diverte leggerlo vederlo insomma mi fa un po' sognare no nelle cose però noto che c'ho tutto quanto un feeling diverso soprattutto con persone della mia vita che sono o ariete o leone o toro cioè nella mia vita quattro testimoni di nozze tutti ariete mio padre mio marito mi fa tanto leone cioè c'ho proprio questa questa scioltezza proprio ti ci trovi ti ci trovi bene naturalmente subito bello bello mi fa pure con gli altri cioè poi faccio confidenza con tutti però c'è questa cosa tocchi tutti anche appena ehi zinto mi viene proprio il contatto ma perché sei perché sei una persona appunto non so come come è che si dice no calorosa però le persone quelle che danno nutrimento proprio agli altri spesso e volentieri amano il contatto anche per quello anche quando ho fatto le presentazioni dei libri quindi comunque uno si immagina una persona io sembrava vieni qua fatta abbracciare ma tu la foto non la vuoi fare ma come la foto non la vuoi fare allora dai non ti avergogna e quindi comunque ecco il rapporto è stare vicino alle persone e poi quello che mi permette anche di capire quelle che possono essere tante sofferenze anche mettermi al livello degli altri l'umiltà c'è anche se sono proprio basi che arrivano nutrono l'essere umano certo e quindi ecco questa invece impalcatura questa cosa insomma di essere perfetti di essere inarrivabili inargiungibili anche quella cosa che dicevi prima riguardo il fatto che una persona segua un'altra persona che invece ha una vita perfetta il corpo perfetto l'alimentazione perfetta i figli perfetti il cane perfetto tutto perfetto e poi magari succede come a Shakira è un disastro hai capito io guarda che quello che ho detto che dico sempre raga potete anche essere Beyoncé che voglio dire no lei è una dea praticamente ma se Jay-Z deve farti le corn te le fa lo stesso idem piqué idem capito cioè in realtà dal momento stesso in cui uno è una persona e loro incredibile ma vero sono persone sono imperfetti e quindi bisogna davvero sposare e accettare le nostre imperfezioni è quello che tu quando vedi un'altra persona dici ok quella fa così la imito la emulo la cosa più sbagliata è che tu perdi il punto di riferimento perché se il momento in cui tu fai emuli quella persona tu stai presso al ritmo di quella persona ma tu hai la tua fame le tue giornate la tua famiglia la tua emotività il tuo lavoro lo sport che piace a te tutto quello che vai a plasmare invece ti fa creare quell'equilibrio apparente cioè ti ritrovi poi a un certo punto che non riesci a stare di più appresso avvilito perché ti senti un deluso di te stessa di aver fallito comunque di non esserci arrivato ma tu non ci arriverai mai perché tu hai perso il punto di riferimento perché tu stai guardando da un'altra parte che non sta dentro di te non è con te quindi questa cosa sui social cassa di risonanza e quello che tanto su What's It in Day mi sono fatta fa degli insulti mi hanno insultato non puoi capire all'inizio ti parlo di due anni fa quando iniziai a avvelenarmi con tutte queste ragazzine che prima cosa pancia ma anche signora adulte pancia ti faccio dire cosa ho mangiato in un giorno come prima cosa mi ha fatto vedere che sei magro quindi comunque è tutto questo che poi ha portato la tossicità e sono aumentati del 30-40% i disturbi alimentari in tre anni quindi guarda è stato un momento in cui ero molto ottimista mi sentivo entusiasta circa appunto due o tre anni fa con che ne so Lizzo che appunto libera questi corpi diversi e vive il suo corpo in una maniera più appunto senza vergogna senza onta l'inizio della body positivity eccetera ma come sempre passa dal grande tritacarne dei media e quindi poi di questa confusione che si crea e tra cose cioè il problema è sempre quello che quando provi a vendere qualcosa a una persona e questa persona non ha le basi per scegliere come dicevi tu quello che è giusto per sé poi si crea capito tutta questa tossicità del devi essere così no devi essere cos'ha no però devi essere cos'ha l'altro giorno e vi giuro lo dico perché mi ha stupito sono caduta proprio dal pero io seguo tutta una serie di modelle plus size perché sono simpatico perché mi piacciono mi piace l'idea che trovino il loro brand tipo ce n'è una che mi fa sputtanare perché va nei negozi dove non ci sono le taglie sue taglie le taglie sue mi senti oddio sì va nei negozi dove non ci sono le taglie sue e con uno spirito umoressico incredibile la challenge è però comprare qualcosa lo stesso e metterselo dove ne ha voglia lei ok quindi lei cosa fa va dentro e magari trova che ne so un crop top elasticizzato no scusa era una gonna in questo caso era una gonna che doveva essere una gonna che ne so per una 44 46 elasticizzata lei la compra lo stesso torna a casa se la mette come crop top e dice dimmi che non me la posso mettere era che ne so urban outfitters no e gli dice adesso urban outfitters visto è plus size anche urban outfitters e lo fa in un modo meraviglioso la persona gonna è la fatta diventa un top capito c'è della serie non è vero è giusto che tutti i brand facciano eventualmente dei dettagli più inclusive però anche lì cioè non fossilizziamoci su soltanto quella cosa lì cioè si può prendere anche con un po' più di leggerezza però poi sentivo sempre sempre il caso della body positivity eccetera che addirittura cosa è successo pensa alla perversione arriva la body positivity arrivano le modelle plus size nel mondo delle influencer modelle plus size queste adesso ingrassano a dismisura perché i brand o determinate testate network testate account americani non solo americani però diciamo anche i brand tipo fashion nova eccetera cercano le modelle plus size e allora queste ingrassano per fare le modelle plus size cioè una cosa che era partita no con con scusa un valore etico un valore non morale non è il problema non è il problema che ingrassano non mi fraintendete il problema è che lei diceva io che ho preso 10 15 20 chili per fare questo tipo di adesso c'ho problema le ginocchia problema di circolazione problema di quest'altra cosa qui la salute è una cosa diversa per tutti su questo non ci piove ma bisogna capito sapere torniamo sempre quello che va bene per noi responsabilizzarci esatto io guarda potrei parlare con te per sette ore e mezzo fuck the patriarchy che appunto ha portato avanti questa grandissima truffa della cultura della dieta fuck tutti i divulgatori farlocchi che non fanno altro che sfruttare le persone in difficoltà e vendergli roba ma dobbiamo fare degli esempi quindi come ti dicevo se mi vuoi dire qualche esempio di qualche disagio alimentare un po' allucinante giusto per appunto alleggerire farci due risate esorcizzare questo argomento incredibile è il momento allora partirei proprio dalle cose che quasi quasi le definirei scaramantiche perché come avevi annunciato tu la cannella la metto per dimagrire o per no vada quindi dalle cose cannella zenzero quindi feci anche il video dimagrici con lo zenzero lancialo dal balcone al quinto piano vanno a riprendere risali e ripeti cento volte dimagrirai in quel modo potrai bruciare i grassi con lo zenzero e ci sono appunto cose anche più gravi e possono essere appunto l'abuso di ansia adesso ci sta un brand che sta sponsorizzando tantissimo un tipo lassativo perché per perdere 11 chili in 10 giorni con questo integratore vuol dire che ti fa andare in bagno infatti dice proprio che ti pulisce l'intestino e questa cosa insomma non è stata tutelata e io ho detto non hai perso grasso amore mio dovevi solamente cagare quindi non è una cosa non è ripieno di merda esatto esatto sapete quando fate quelle belle quelle ci sono delle volte che fai quelle cac che dici ho perso un chiletto effettivamente un chiletto sono dispacenti è vero oh ma il peso comunque veramente l'intestino è lungo 7 metri comunque contiene fa tanto però quello vuol dire che non è grasso cioè non diciamo che sei dimagrito cioè tu hai perso peso però anche se io prendo la bottiglia d'acqua mi peso con la bottiglia d'acqua in mano o mi bevo l'acqua io sempre un chilo in più se bevo un litro d'acqua peso sulla bilancia ma è acqua così come cacca quindi comunque su questo insomma cerchiamo di aprire gli occhi anche su questa cosa qui e poi cose magari ecco parlando di acqua ragazze che magari eccedono invece poi ecco questi farmaci anche che non si capisce chi glieli prescriva cioè chi gli prescrive un lasix ad una ragazza che non ha la pressione problemi di pressione niente è arrivata a 7 lasix lei 7 lasix i lasix perdona sono vengono dati cioè solitamente diuretici ah ok diuretici mia nonna mia nonna ercolina di 97 anni li prende perché se no ritiene tutti i liquidi però lei ha un motivo però è arrivare a prenderne 7 e lei ha detto ma scusa perché l'hai aumentata cioè perché ne prendi 7 cioè veramente da farti andare a fanculo la pompa sodia potassio che è comunque quella osmotica che ti porta il corpo anche a non avere aritmie per esempio cioè ti fai prendere un infarto amore mio cioè quindi poi lì le parolacce che uno dice si incavola anche delle persone perché evidentemente tu stai perdendo mi rendo conto le redini della situazione però mi arrabbio col medico che ti ha fatto anche la prescrizione di questo l'asix perché io non penso tu freghi la ricetta a tua nonna e te la vada oh te la puoi pure fregare perché c'è gente pure che qualcuno lo fa secondo me però sì qualcuno lo fa però ecco quello è il disagio che poi dopo non ti riesci a aumenti sempre perché poi il corpo non riesce più a essere autosufficiente quindi comunque richiede sempre più farmaco si ha suefazione e quindi questa è arrivata a 7 l'asix e non andava più a fare pipì neanche con 7 l'asix quindi questa è una tragedia quindi come riuscire ad aiutare certe ragazze e in questo caso il nutrizionista che dice amore mio ti aiuto io no la soluzione non te la dà il nutrizionista in questo caso tu hai una problematica psicologica psicoterapeutica qualsiasi professionista della nutrizione prima di dare qualsiasi tipologia di dieta deve sapere che il grado comunque che il livello di a livello psicologico come sta il paziente e anche quando adesso ci stanno altre tragedie aspetta che mancini ma sono sicura che te ne vengono mille ti volevo leggere quella dell'amorositas perché mi ha fatto veramente ho detto boh allora avrei una valanga dice Valentina resto coerente al mio disagio già accennato in manifesto da piccola ero convinta che le morositas alla liquirizia avessero degli effetti terapeutici superiori ai medicinali io non mi so spiegare febbre morositas mal di gola morositas qualsiasi altro fastidio morositas mia madre mi dava ragione ok no non sappiamo aspetta perché poi credo di averle chiesto ma scusa io non potrei darti una risposta a tutto questo perché credo di averle detto scusa ma da dove te era venuta sta cosa ma l'idea che te l'aveva data chiaramente tutto da sola come tu te le fai la maggior parte delle paranoie però una mamma anche lì che ti dà insomma adesso mia madre è vero che mia madre mia madre ha fatto il periodo non so se ti ricordi forse sei più piccola di me quindi magari no però ti ricordi che c'è stato negli anni 90 il fanatismo per il macrobiotico ti ricordi sì 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 come no come no mia madre ristoranti proprio anche che apriron bravissima mia madre per un anno ha mangiato solo ed esclusivamente macrobiotico e la povera Valentina bambina si doveva avere queste schifezze che dovevano sapere di cacao invece erano di tipo di fava di fuco cicoria cicoria brava esatto una schifezza mortale vabbè qua poi andremo ad aprire il vaso di Pandora e aspetta perché ce n'è una una ragazza mi ha scritto invece una cosa appunto sul nutrizionista che è molto calzante a quello che dicevi prima disagio alimentare questa è Manuela vado da una nutrizionista perché faccio se faccio la dieta da sola mi privo di qualsiasi cosa lei ha dei problematiche di restrizione no ovviamente e divento uno scheletro quindi lei è esperta e non mi farà arrivare a quel punto dice lei nella sua testa becco una nutrizionista che evidentemente ha un disturbo alimentare te lo dico ti dico solo che l'ultimo piano alimentare che mi aveva fatto 20 grammi di pasta a pranzo manco tre rigatoni ok capite che no eppure guarda disagio una roba allora casa mia finché vivevo con i miei erano vietati sì perché l'esempio che ho fatto io su IG nelle storie era che io proprio perché mia mamma c'era stefis e faceva aerobica poi sua figlia era cicciotta perché mia nonna mi dava i maritozzi di nascosto per farmi star zitta lei invece era sempre stata super magra super fitness super tutto e quindi vivevamo questo disagio familiare e quindi la Nutella era bannata cioè non è mai entrata in casa in casa mia la Nutella non è mai entrata ovviamente la prima cosa che ho fatto quando sono compiuto che ne so 13-14 anni e avevo due soldi nel portafoglio sono andata al supermercato ho preso il barattolo più grosso di Nutella che c'era e mi ci sono sfondata capisci che ovviamente no e quindi loro hanno risposto anche a questo e dicevano in casa mia sono bannati ghiaccio perché si muore col ghiaccio si muore col ghiaccio che determina valanghe per quale si muore col ghiaccio surgelati perché quello che puoi cucinarti tu non va comprato fatto merendine qua intervento no di 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 intervini quando vuoi no 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 io consideriamo che lavoro veramente da dieci anni in ricerca e sviluppo per la prima multinazionale al mondo di surgelati produzione terzi e quello che c'è comunque veramente come così diciamo così luogo comune sui surgelati ma che surgelati compri cioè questo che ingredienti trovi è uno anzi dei metodi di conservazione per evitare di aggiungere sale di aggiungere acido citrico per prendere abbattere congelare fermare processi di riproduzione microbica quindi dipende ci sono pasti e pasti surgelati anche un pasto pronto che possa essere una zuppa tu basta che guardi dietro gli ingredienti se trovi ordo ma ti salvano la vita ti salvano la vita è vero siamo d'accordo che se sono degli oscuri supermercati con prodotti importati da non si sa bene dove in una lingua straniera allora magari dici vabbè guardi dietro gli ingredienti ti trovi veramente codate dopo è capito ok ma adesso faccio un nome la orogel tipo c'è tutto dietro esatto ma poi vedi proprio ingredienti come tu li prendi e li come se li preparassi tu cioè ti agevola e questo sono anche processi controllati meglio che poi anche dici la merendina prima stavi a nominare la merendina sì sì ovviamente anche la merendina era bannata perché le mangi a casa delle tue amiche la risposta perché non te le piglio io perché le mangi a casa delle tue amiche ah dice comunque dall'altra parte ma capace che dalle amiche non le mangerebbe se tu a casa di me la merendina ogni tanto e comunque se tu dietro la merendina c'è scritto la farina lo zucchero le uova l'olio o il burro e il cioccolato e basta è come se tua nonna prende la farina con le uova col burro cioè stai dove in un'azienda e comunque dipende anche dall'etica lavorativa che hanno e sicuramente in Italia abbiamo tanti di quei controlli dei controlli infiniti su quello che viene messo in etichetta su quello che devono fare le aziende che gli fanno veramente un mazzo così nel momento in cui gli trovano uno zero virgola insomma di più o meno che io sarei abbastanza cioè sarei abbastanza serena in questo cioè basta saper leggere un'etichetta per capire quello che mangi e da perdonate mi ignoranti fare affermazioni del genere puntando il dito anche per esempio i pesticidi i pesticidi i grassi saturi e aspetta cos'è che era e la beh ecco non so non trovo il messaggio ma qualcun altro mi ha scritto il McDonald allora il McDonald come dici tu è cioè ovviamente non stiamo dicendo magnate tutti i giorni tutto il giorno al McDonald perché è fantastico ma anche loro quelli in Italia se non altro poi gli altri paesi non lo sappiamo certo passano dei controlli ma terrificanti per potervi dare i nuggets l'hamburger e quella roba lì poi come dici tu poi ovvio ci stanno alimenti ad alta densità energetica che comunque sono abbastanza gustosi ma se quella volta al mese capita con tuo figlio ad andartelo a mangiare noi consideriamo che le patatine del Mac se tu te le mangi oggi se te le mangi tra quattro anni se te le mangi alle sette di mattina se te le mangi hanno tutte lo stesso sapore ci sarai così tranquilla di quali cose le fanno sempre lo stesso modo esatto cioè non c'è variabile non c'è variabile guarda ieri sera non c'è variabile ieri sera giusto ieri sera a tavola col compagno di mia madre che è proprio un boomer ma proprio cioè non è neanche i boomer di quelli che un po' ci provano è proprio boomer io sto bene così ai miei tempi era tutto meglio ciao non voglio non voglio sapere cos'è il mondo moderno se ne è uscito lui ha questo vocione un po' apparente comunque io adesso che la menano con questo abbattimento del pesce crudo ho notato che il pesce crudo abbattuto è meno buono del pesce crudo non abbattuto ho detto Fabri ho detto metti il braccio così un attimo per piacere ho detto quindi vuoi morire preferisci morire un bel anisagis prossimo Natale un bel anisagis ha fatto questa frase incredibile l'abbattimento non cambia secondo me poi magari mi sbaglio però siccome non cambia il sapore del prodotto ecco no diciamo che proprio a livello organolettico ti può cambiare lo zero ma proprio se veramente hai tutte le papille gustative e per sei uno che fa il panel test per vedere l'acido oleico nell'olio quindi c'hai veramente olfatto ma no è chiaro che se tu sei il pescatore che pesca riccio fresco da tutta la vita nel mare te lo mangi crudo lì sulla spiaggia è ovvio che avrai più attenzione come dici tu la papilla gustativa allenata in un certo modo ma no altri che andiamo al sushi e ci ingoffiamo con gli uramachi speriamo si abbattuto speriamo si abbattuto ben venga esatto e vorrei vorrei vedere che il marinaio sta facendo veramente il gratta e vinci per trovare la tossina che poi un giorno cruda se la ritrova e si sente male perché comunque è buono buono però lui è un lupo di mare cioè cos'è che ha gli anticorpi ecco sempre per le evidenze poi ricordando tutto Dario Bressanini ha fatto veramente dei libri fantastici pane e bugie per esempio per quanto tutto riguarda il discorso del biologico abbiamo appunto la scienza dei saponi della buizia l'ultimo conoscito super best sell quindi alla fine abbiamo la possibilità anche di attingere no a chi fa corretta insomma gli strumenti che ci diano delle risposte valide poi se vogliamo credere nella medicina cinese e quindi che ci va bene il gold milk con la cannella e ti ti purifica il sangue il fegato il gold il latte di capra aspetta cos'è il no il golden milk sarebbe questo latte ok dorato golden lì latte d'oro sarebbe proprio ok e praticamente tu fai questa preparazione che deriva dalla medicina cinese utilizzando quello che sia latte curcuma e tepe quindi fai tutta questa cosa poi c'è un impasto diventa una crema poi tu fai il latte a parte devi avere un sacco di tempo a disposizione poi vai anche su una montagna al sorgere del sole sì ok salute fai tutto quanto ti riempie la luce di Cristo e quindi tutta questa cosa ecco quindi le proprietà benefiche ok abbiamo su quanto riguarda la cannella e il pepe la curcumina voglio dire la curcuma e il delle caratteristiche antiossidanti ma come le abbiamo nel cavolfiore come le abbiamo nei pili come le abbiamo certo in tutto ogni cibo ha le sue proprietà benefiche ha qualche difettuccio come le persone non sono come le persone non bisogna discriminare abbiamo i nostri limiti abbiamo i nostri pregi l'importante è prenderci alle giuste dosi no? cioè un pochino di tutto ogni tanto eh no magari fosse capisco che non è così semplice però ovviamente si fa si fa per scherzare guarda ti leggo l'ultimo perché ovviamente poi non abbiamo più tempo perché è molto bello parlare con te mi dà una grandissima soddisfazione Giulia ho avuto disturbo alimentare per 5-6 anni sto guarendo ora però quando torno a casa giù durante i pranzi cene incontri come ti dicevo come parenti c'è sempre la zia che mi chiede consigli su dieta e cibo ah sì la stessa che durante la ricaduta dal primo recovery mi disse ah ma ti sei gonfiata un sacco brava che bello sei mesi di comunità buttati nel cesso con questa fantastica frase che non è stata neanche l'unica ringraziamo Gaia e soprattutto sua zia un pensiero alla zia di Gaia che poi poverina la zia io cioè non sto non voglio neanche puntare il dito un po' sì un po' vorrei che la smettessero detto tra noi è vero anche che anche loro sono figli del loro momento storico e tutto quello che gli è stato è ora di dirgli basta è ora di dirgli basta basta io ho fatto oggi anzi ho fatto un sacco dei video oggi ho fatto un altro video proprio perché ho raccontato invece che riguardo questo discorso dei complimenti anche perché non è solamente ti sei ingrassato che è successo ma è anche il complimento di dire come stai bene finalmente hai il viso più rilassato che è successo praticamente una mia amica stavamo ci stavamo scambiando i regali di Natale per lei praticamente è successo che soffre di aniversità nervosa dopo tanto tempo è riuscita a rimanere incinta ha perso il bimbo a quarto mese e ci siamo viste insomma dopo Natale perché è accaduta questa cosa nei giorni di Natale quindi nonostante lei comunque avesse già fatto per se stessa un lavoro psicologico importante riguardo quello che era l'accettazione il cambio del corpo perché si è rimane incinta tutto questo è successo a questa cosa quindi proprio veramente apriti cello adesso ricomincia l'accettazione di se stessa il dolore tutto la mette insieme arriviamo mentre stiamo prendendoci questo stiamo scambiando regali prendendoci questo caffè si avvicina una persona ci saluta e guarda lei e gli fa ma lo sai che ti trovo veramente bene veramente adesso finalmente hai questo viso più rilassato e più così armonioso rispetto a qualche tempo fa che invece eri tutta secca e scavata questa cosa che magari quella persona in buona fede giustamente ha detto ma tu in quel caso vai a instillare a determinare delle congetture dei meccanismi di poi compensazione di ritornare a tutte quelle metodiche quindi si vede che io sono quindi questo è tossico tutto questo che possa essere un commentare il corpo degli altri stai bene stai male chiedete come stai cioè poi quella persona se vuole parlare di se stessa te lo dice ma che tu gli faccia un commento rispetto a quel corpo perché è anche un normo peso tu non sai la sofferenza di tutto quello che lui mette in atto per stare in quel corpo in quello che sono tutte le le situazioni che si determinano quindi se tu non sai niente di quella persona perché sta ingrassata perché sia dimagrita perché è normo peso perché se mangia l'insalata o perché se sta mangiando la pizza fatte i fatti tuoi è l'unica guarda e parla di altro sì sì bravo allora intanto yes voto per te dimmi dove devo firmare sì nel senso che purtroppo non ci sono vedi mezzo cioè io è tanto che ci penso a questa cosa qua sì la gentilezza sì la diplomazia sì la comprensione ma di strategie da veicolare per eliminare questo problema del commentare i corpi altrui non ci sono vedi mezzo l'unica l'unico modo è farsi i cazzi propri cioè c'è poco da fare perché anche con l'intenzione migliore con il sentimento più sensibile con la il bene che ti voglio se posso dire i genitori i parenti lo fanno in continuazione io sono convinta che ci vogliano bene ma non c'è purtroppo io posso dire una cosa pensando di dirla proprio dal profondo del mio cuore che tu se sei in uno stato mentale di un certo tipo in uno stato fisico o ti è successo la prendi in un modo che ti tormenta per una settimana e ci metti una settimana solo a fartelo passare quindi non ci sono vedi mezzo ahimè cioè io cerco sempre di un po' trovare con diplomazia qualche via di mezzo qualche punto di incontro non c'è in questo in questo ambito non ci può essere i paletti devono essere messi cioè bisogna arrivare dalle famiglie di oh quest'anno no cioè torno a casa non mi dovete fare commenti non mi dovete parlare di perché magari loro non ci arrivano da soli e quindi ci può stare e bisogna essere un po' nazi in questo perché se tutto il resto possiamo parlarne su questo no e e come dici tu io una cosa una risposta gliela vorrei dare cioè gliela vorrei consigliare poi una risposta che magari dici dici volentieri no la risposta è quindi se sono ingrassata cioè la domanda se ti dico lo che gli aveva detto sei ingrassata sì ti ho detto ti sei gonfiata una cosa del genere quindi se sono invece più magra andrebbe meglio cioè sarei migliore perché in questo caso vuol dire che io sono migliore se sono magra cioè essere una persona quindi tu non ti sei più riferente ad una persona cioè sono sbagliato se sono gonfio quindi non vado più bene certo cioè dargli uno spunto di riflessione perché inutile poi insomma arrabbiarsi no arrabbiarsi no no in questo momento partirebbe una castagna alla zia la castagna alla zia gli arriverebbe dire a un certo punto te parli un po' la brocca però però lì per lì cioè la tua mortificazione esterna la è brava esatto esatto perché per troppo tempo noi ci preoccupiamo molto spesso ci preoccupiamo di non che il nostro fastidio non recchi fastidio agli altri invece a volte serve perché se effettivamente ti dico quindi cioè zia mi vuoi più o meno bene in base a quanto peso potrebbe effettivamente essere una giusta risposta perché ovviamente poi davanti a una cosa del genere adesso a meno che proprio tua zia non sia una stronta non ci arrivano magari è una stronta galattica allora non lo so però cosa che ho fatto con mia madre dopo il percorso di terapia provare a mettere davanti certe sue affermazioni e spiegarle in che modo mi ferivano è ovvio che poi il suo ritorno è certo che non l'ho detto per ferirti ecco fermiamoci un attimo tu non l'hai detto per ferirmi però se il risultato è che mi hai ferito come la mettiamo e quindi almeno come dici tu devi saperlo esatto devi saperlo Giulia parte grazie perché mille spunti interessantissimi è un argomento vastissimo fighissimo e soprattutto secondo me fondamentale per il benessere della vita delle persone quello che tu porti avanti fai le cose di cui parli quindi grazie e anche da parte di chi mi ha consigliato appunto di trovare te e di invitare te e direi che possiamo chiudere con la nostra valutazione che ti dicevo prima quindi disagio alimentare lo mettiamo nel vivi e lascia vivere ovvero ma sì è un aspetto così che fa parte della vita però insomma ci sono cose più importanti quindi chissene a un certo punto oppure stat accort cioè ok attenzione perché è un aspetto della vita può creare effettivamente disagio si può tenere sotto controllo però oppure disagio esistenziale quindi cioè è una di quelle cose nella vita che se non teniamo se non diamo la giusta attenzione se non non diamo la giusta cura può effettivamente impattare molto negativamente tutto il nostro benessere diciamo di sì siamo arrivati al punto del disagio esistenziale ad oggi io credo di sì prima eravamo su stata accorta un po' di tempo fa stavamo ancora all'illè e quindi direi che in questo momento proprio bisogna mettere un punto un freno comunque prendere dei provvedimenti cambiare comunicazione tutelare gli utenti sui social perché comunque è una cassa di risonanza che è quello che accapitava dentro una palestra come per esempio quello che è successo per esempio delle farfalle della ritmica è una cosa che magari esiste in migliaia di palestri in Italia dappertutto e quindi adesso siamo arrivati sì al disagio esistenziale sono d'accordo ti dirò di più io credo che adesso la sparo grossissima io credo che quasi nessuno di base di partenza abbia un rapporto sano col cibo adesso voglio voglio esagerare sto forse esagerando no no credo che forse mi puoi mi puoi confermare o contraddire come vuoi io ti posso confermare io se faccio mente locale anche solo le persone intorno a me da quando io ho preso un po' consapevolezza e io ho preso un pochino di consapevolezza no capito che sono qua sta a insegnare niente a nessuno io dovunque mi giro vedo che sì certe persone non è espresso perché magari non sono sovrappeso non sono sottopeso non hanno qualche espressione non è fisicamente esatto esatto ma rapporto sano equilibrato di mi piace mi nutro il mio corpo le cose come dicevamo insomma come abbiamo detto per tutta la puntata di default cioè proprio di partenza così io non ne conosco cioè intorno a me non ce ne sono e secondo me è proprio per questo che è un disagio esistenziale perché è sottovalutato e tanti disturbi alimentari non sono neanche diagnosticati ad oggi perché ci sono praticamente nel DSM 5 delle categorizzazioni delle cose che tu ti devono inserire in delle categorie di disturbo a seconda di quello che c'è e tante magari hanno un'oressia nervosa ma non sei sottopeso quindi siccome non è questa caratteristica non sei diagnosticabile quindi ci sono tantissimi insorbi alimentari anche che non sono solamente binge eating anoressia bulimia ma ce ne sono tantissimi drinkoressia ci sta quello che il mastichi e poi sputi ce ne sono tantissimi e non devono essere anzi dobbiamo prestare tanta attenzione e soprattutto per tutelarci bisogna rispettare le altre persone evitando commenti sul corpo evitando commenti sul cibo e già fare un passo avanti a livello evolutivo in questo modo qui certo certo messaggio meraviglioso giustissimo io anzi ne approfitto perché tanto che ti ho qua ti dico tornerai vero perché secondo me possiamo parlarne almeno per un'altra puntata tranquillamente più avanti magari con uno spunto diverso arriva qualche segnalazione diversa spero che tornerai perché davvero è stato molto molto interessante mi è piaciuto molto parlare con te molto volentieri Valentina grazie come vedi faccio sanguina un po' le orecchie però no ma scherzi no 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 ecco io credo che sia questo io credo che chi ha ascoltato poi me lo direte mi manderete i vostri feedback i messaggi che dovevano arrivare sono arrivati spero che vi siano utili sono stati pratici sono stati concreti e soprattutto sono fatti per che siate autonomi e autonome nel vostro decision making process che è molto molto importante e dove ti possiamo trovare Giulia? allora sulla pagina bilanciamo su Instagram Facebook TikTok e io consiglio ho scritto vabbè tre manuali didattici di nutrizione proprio per insegnare le basi ma quello che consiglio vivamente a chiunque adesso si trova insomma in questa bolla no di perfezione in questo meccanismi anche che si sono determinati con la cultura della dieta e capire anche come arginare e comunque migliorare anche il contesto sociale a 360 gradi il metodo didattico e anche tutta l'analisi dei falsi miti e a livello psicologico quello che si sta determinando è l'ultimo libro le diete che ti hanno rovinato la vita questo libro veramente sta è stato anche adesso molto utile a tantissimi terapisti che stanno mettendo insomma la terapia stanno aiutando la paziente di pari passo con lo studio delle basi dell'alimentazione per riacquistare insomma confidenza con il cibo e capire che non siamo noi le persone sbagliate no 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 noi non abbiamo nulla di sbagliato e quindi quello che ci fanno credere è semplicemente da da resettare perfetto perfetto grazie Giulia è stato bellissimo noi amici vi ricordo sempre di seguire gli ascoltabili su Facebook e Instagram io sono la vostra VEE di Valentina sia su Instagram che su TikTok vi ricordo sempre che se volete vedere questa puntata proprio in video quindi vedere anche Giulia e le mie facce sconvolte e le sue facce sconvolte quando parliamo di certe cose lo potete fare su Patreon dove ci potete dove potete supportare il podcast e trovate tutta una serie di contenuti extra l'appuntamento è per stasera perché questa puntata esce il 21 gennaio esatto quindi esce proprio di sabato e ci vediamo a Bologna all'officina teatrale dei mai contenti per il disagio teatro con Laura Scaini di vabbè mi sono fatta di peggio e della segreteria dell'astro disagio quindi grazie volemose bene e volemose bene ciao volemose bene ciao ciao a tutti ciao Valentina grazie avete ascoltato il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle una produzione gli ascoltabili grazie a tutti grazie a tutti